Da un'idea di Sava73 e Fabio Postiglione, un saluto a tutti e benvenuti in questa puntata dell'ultima domenica del mese e come questa volta accade è una puntata del quizzotto, il quizzone con il pezzotto. Salutiamo i nostri ospiti, vi ho fatto anche l'introduzione e ora la devo leggere anche questa, quindi non ridete. Grande amanti dei giochi American, ma soprattutto di Butterstar Galactica, fido lettore di romanzi scientifici e presentatore di Radiogoblin, qui con noi Sava73. Ah, un saluto a tutti, bellissima sta presente, mi ci sono ritrovato tanto, grazie. E ora, mi pletta multilingue dalle pronunce perfette, amante dei giochi particolari e a volte introvabili, è vero, co-presentatrice del quizzone Infinite Jest. Wow, grazie, sono emozionatissimo, non mi ha mai presentato nessuno, comunque confermo tutto, grazie. È un piacere, ben trovati a tutti. Salutiamo anche gli altri di Radiogoblin, perché prima Elena mi ha detto, mi ha confessato che per ogni puntata ci sono almeno 5-6 persone coinvolte e ora io posso immaginare Volmey, Darcy, ODK e chi altro mi sono dimenticato? Pensa quanto appariamo fighi da fuori, cioè, allora il quizzone se lo scrive quasi tutto da solo Spip, che noi ringraziamo ogni puntata perché è quello più attivo a scrivere le domande. E Ferrini, anche Ferrini. Ferrini, ma sì, vabbè, tutti partecipiamo un minimo, no? Cioè io, te, per carità, anche Volmey, però Spip è sicuramente quello che si impegna di più e che merita il nostro ringraziamento più grande. Mentre Darcy è proprio una stella, cioè lui non fa niente e quando lo invitiamo per fare il giudice e lì il notaio ci dà pure buca all'ultimo secondo, quindi direi proprio che Darcy merita solo il nostro biasimo. Ma è un piacere all'ultimo, come Matte allora? Ma peggio, molto peggio. No, no, neanche all'ultimo, cioè proprio già a prescindere, da quando si deve decidere da data, no, qua non ci sono, qui neanche, qui è, c'ho sempre da fare, c'ho sempre da fare, e vabbè, però gli vogliamo bene lo stesso. Assolutamente, tantissimo. Salutiamo anche lui, dai, ci sta. Assolutamente. E allora, qui con me abbiamo le mitiche Winning Eleven. Siete pronti per cominciare? Hai voglia. Quindi sono undici anche nel vostro, nel vostro quizotto, pezzotto. Sì, esatto. E perché undici? No, allora, avevamo, perché il quizone ne ha undici, avevamo progettato le cose tipo chi vuole essere milionario, però poi sono andato a vedere a quindici domande, erano troppe. E allora le ho dovuto accorciare e ho fatto le Winning Eleven anch'io. Sfaticato. Mamma mia. E comunque ti dico che Matteo ha dato buca perché aveva paura dell'inconvenza maggiore che c'è nel quizone che è quella di tenere i punti. Mamma mia. Vero, vero, sicurissimo. Allora, io vi vorrei, visto che non c'è una penitenza e questa cosa la stiamo decidendo ora, vi vorrei proporre un qualcosa di sostitutivo alla penitenza. Sapete che in chi vuole essere milionario ci sono delle specie di traguardo, no? Quando arrivi c'è il paracadute per dire, ok, qui non ci giochiamo i soldi, non abbiamo amico bloni d'oro, però... Potevate mettere dei giochi in scatola in premio, prima un gioco, poi due, poi cinque, poi uno splotter spellen, poi un kickstarter tipo Hotsworm, no? E roba così. È giusto per rimanere sull'economico, mi pare. Esatto, esatto, a crescere, no? Ma io che te li faccio a fare i format, Fabio? Me lo dovevi dire prima, mi procuravo un Hotsworm. E uno sponsor anche. Poi noi ovviamente lo donavamo in beneficenza, come fanno tutti i bravi vips, però insomma intanto tu facevi bella figura. Bravi, bravi, bravi. Io invece vi vorrei proporre di dire una frase senza senso durante una puntata. Ah, è il segno per te, va benissimo. Facciamo così, se raggiungete il traguardo, che facciamo tipo settima domanda. Ok. Una supercazzola in puntata la dico io, scelta da me. Se voi vincete, la scegliete voi, ma se non raggiungete il paracadute e perdete, dovete dirla voi la supercazzola. Ah, va bene. Quindi noi metteremo al posto di uno dei flavor del quizzone, senza spiegare, senza niente, tu che reciti il flavor e che sarà incomprensibile. Sì, esatto. Ci può stare, mi piace, molto bello. Farò anch'io lo stesso, ovviamente. Ok. Ci mancherebbe. Siamo pronti a tutto. E vabbè, comunque, se volete obiettare qualcosa, sapete che potete scrivere comunque a trashchiocciolagoblin.net, non c'è nessun problema. Che fai? Rispondi tu da trash? Io te leggero le mail. Ma si può dedarsi sempre. Ma le legge veramente? Ma certo. Esiste veramente. Se io ora gli scrivo una mail, lui la vede? La vede lui, la vediamo anche tutti. È una mail multipla, la leggiamo in tanti, però sostanzialmente darsi dovrebbe essere quello preposto alla risposta. E ti dirò di più. Da qualche mese a questa parte abbiamo cominciato ad aprire il quizzone ai nostri ascoltatori. E la domanda di iscrizione viene fatta attraverso trashchiocciolagoblins.net. La penultima era già così, l'ultima che va in onda martedì prossimo, ora, questo va questa domenica o domenica prossima ancora? Io non lo so come sei messo tu. Dopo lo cerco e te lo dico, ora non lo so. Comunque l'ultima domenica di aprile, l'ultimo martedì di aprile per non sbagliarci, il quizzone è stato fatto da due nostri ascoltatori. E l'ultimo martedì di maggio due altri ascoltatori. Quindi insomma sta cosa funziona. Allora, io sto scrivendo un messaggio a Volmei, visto che legge... Volmei! Allora, Volmei ciupa e poi post scrittum è colpa di Sava. Scrivi, l'ho fatto per verificare se effettivamente la mail funzionava. Già mandata, mi dispiace. Non capirà nulla. Mi è arrivata la notifica che è arrivata una mail. Ok, allora vai. Ma tu Elena non ci sei invece, tu non le leggi? No, io non ci sono. Ha scritto proprio Volmei, Ciupa, PS e colpa di Sava. Beh certo. L'ha mandata da Android, quindi dal cellulare. L'ha mandata dal cellulare, capito? Nemmeno dal computer. E questo adesso, se non è la riprova anche per gli ascoltatori di giochi sul nostro tavolo, che questa mail esiste... Esatto, e che c'è qualcuno che la legge soprattutto, quindi scrivete tutti. E che c'è qualcuno che ci crede e ci scrive. C'è qualcuno che ancora continua a dirmi, ah io non ci scrivo perché lo fai apposta Sava, non è vero, non esiste quella mail. Vi devo dare gli aiuti però, perché ci sono gli aiuti, no? Ottimo, bene. Volete ridere un attimo prima che vi dico gli aiuti? Perché dobbiamo ridere prima? Rideremo dopo. Mi ha scritto ora Matteo, ho scritto, stai già registrando? Dai, è Matteo. Su, vieni. Volmei mi ha girato su Telegram lo screen della tua mail. Che mi vorrà dire tipo, ma chi è questo? Ma che vuole? Ora gli scrivo, controlla su Calendar e capirai cosa stiamo facendo. Intanto a Matteo gli ho detto che non stiamo registrando e di collegarsi, quindi supercazzola. Va bene. No, vi do gli aiuti mentre aspettiamo. Allora, abbiamo quattro aiuti, che in chi vuole essere milionario ce ne sono tre, noi ne abbiamo messi quattro, perché vogliamo esagerare. Allora. Elena, segnali tu, lo sai che io ho difficoltà a ricordarmi. Il mio segno, ho già carta e penna, guarda. 50 e 50. Matteo. Ciao Matteo. Hola. Buonasera, buonasera. Buonasera Matteo. Devi sapere che abbiamo già iniziato a registrare, ma tu non ti preoccupare. Abbiamo solo parlato male di te, ma tanto tu lo riascolterai domenica. Sì, no, ma non è quello il problema, tanto so già che tutti parlano alle mie spalle, quindi non è un problema. Sì, sì. Bene, allora, ho fatto la guest star, ho interrotto qualcosa? Spero di sì. Sì, ci stava raccontando i nostri aiuti, come no? Praticamente abbiamo deciso all'unanimità che tieni i punti. Perfetto. Dico bene Fabio. Esatto, esatto. Perfetto, sono la persona meno affidabile del mondo. E poi tieni i punti de che? Cioè, se rispondiamo giusto andiamo avanti, se sbagliamo è finita la puntata. Ma devi tenerli i punti. Vabbè, allora faccio il valletto insomma. Bene. Grazie, grazie. Primo aiuto, 50 e 50. Secondo aiuto, aiuto del pubblico, che non abbiamo un pubblico, quindi vi dovrete contentare di meno Matteo. Mi dispiace. Sono io, sono io il pubblico. Matteo, ma tu hai accesso alle domande? Eh? Hai accesso alle domande e relative risposte? Ovviamente no. Ovviamente no. Io sto giocando come se fossi con voi, cioè. Aspetta, ti mando le foto delle domande. Ah, grazie. Grazie Fabio, ne avevo bisogno, grazie. Ma come? Poi, la telefonata da casa, importantissima. Non sappiamo chi chiamerete, sarà una sorpresa. L'abbiamo già deciso, ma non lo vogliamo dire per mantenere il segreto. E, quarta domanda, avete un minuto libero che potrete cercare qualsiasi cosa voi vogliate su BGG. Ah, bella, solo su BGG, non su internet in genere, su BGG. No, vabbè, BGG è l'unica cosa che penso che vi potrà aiutare, però in generale potete cercare dove volete. Ok, va bene, quindi Elena, quando saremo proprio con le spalle al muro, ci faremo sta roba di cercare su internet. Ti trovi questi aiuti, cioè tu vuoi fare... Una puntata troppo lunghissima. No, dai, sono... Ma non ne avremo bisogno, giusto? No, no, io... Allora, se arriviamo con tutti e quattro gli aiuti non spesi alla fine, ci ridate indietro i soldi? Come funziona? No, Matteo vi porta una scatola di Osworn. Ah, ottimo, grazie Matteo. Ok. Sempre perché è arrivato in ritardo, giusto? Esatto. È lui il nostro sponsor di stasera. Che culo. Allora, iniziamo. Prima domanda. E come ogni prima domanda, si parlerà di Battlestar Galactica. Dai! Allora, 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 me la so scritta bene. Forse la so. Battlestar Galactica è un gioco del 2008, edito dalla Fantasy Flight. È attualmente a rank 95 di BGG e al 32esimo posto nei tematici. La prima edizione italiana è uscita nel 2009, ma con che marchio? Ah, beh, facile. A. Editrice giochi. B. Giochi uniti. C. Asmodee. D. Craneo creation. Bella, bella domanda. Elena? Beh, ma possiamo parlare tre di noi e poi diamo la risposta definitiva. No, che figurativo sarebbe, scusa. Ah, ok. Non voglio cominciare a fare il giocatore alfa, no? Di cui mi accusano sempre, giustamente. Ma io questa te la lasciavo proprio incondizionatamente per non far figura. Tu lo saprai. Giochi uniti. Ma manco per il... Ma manco... Ma che stai dicendo? Giochi uniti? Mi lo scoperto oggi, eh. Giochi uniti, la ripresa in mano, in un secondo, addirittura in un terzo momento. E mi ricordo che all'epoca affidò la traduzione di alcuni termini a Max Bianchini, che tutti conosciamo. E io mi ricordo pure che mi misi a discutere con Max su alcune traduzioni che mi lasciarono un po' perplesso, ma solamente perché ero ormai troppo abituato alla vecchia edizione. Quella con tutti gli errori, quella con le patch, quella con le contro cose. E di chi era? Era dell'editrice giochi. Ma... Cioè, potrei anche girarmi e controllare la scatola che ho ricevuto in regalo come primo gioco da tavolo quando ho iniziato a giocare da tavolo. Cioè, quando voi giocavate i giochi quelli... Come si chiamano? Gli introduttivi, no? I Carcassoni, i Catan. Questi qui a me mi regalarono invece Battlestar Galactica senza capire che non avevo strusciato un gioco da tavolo prima e io sono stato battezzato con Battlestar Galactica, direi un battesimo che mi è rimasto impresso proprio nella pelle. Ma tu allora l'hai giocato prima di averlo in possesso? Io... No, me l'hanno regalato per il mio compleanno ed è rimasto chiuso nell'armadio. Cioè, voi pensate, una persona che non ha mai giocato altro che Tabù e Bang, che chiamarli... Sì, insomma, non sono esattamente... Sono giochi da pub in cui con gli amici, quando avevamo 18-19 anni, dopo una birra si rideva e si scherzava tutti insieme. Perché con le birre funzionano bene. Alla grande. E dicevo... Quindi questo mio amico, che è la persona che mi ha introdotto al gioco da tavolo, mi regala Battlestar Galactica perché io gli avevo fatto una capoccia tanto con la serie tv che a cui all'epoca stravedevo per Battlestar Galactica, all'epoca. Non è che oggi ho cambiato tanto i miei gusti. Cioè, secondo me, ancora oggi è fra le serie tv più belle mai fatte. E lui mi regalò questo gioco. E io contentissimo. Dico, ah, ma dai, hanno fatto un gioco sulla serie tv. Ma che spettacolo! Aperto la prima pagina, non ci ho capito niente, è richiuso e è rimasto lì. Fino a che lui... Grazie, grazie mille del pensiero! Sì, bravo! Proprio quello! Dentro di me pensavo, ma mi poteva regalare una birra, spendeva di meno, eravamo tutti più contenti. Ma dico sul serio. E l'ho messo nell'armadio in mezzo alle buste delle scarpe in disuso, piuttosto che queste cose qui, no? Le robe che non vai mai più a toccare. E lui stesso, ritornato a casa mia dopo un anno, mi fa, ma l'hai giocato a Battlestar Galactica? Sai che non c'avevo tempo, non ho potuto... E lui mi fa, ma dai, ma tiralo fuori e lo facciamo insieme. E faccio però il regolamento, l'avete visto il regolamento di Battlestar Galactica? Sì, cioè comunque per un neofita è un ostacolo, è un ostacolo clamoroso, un ostacolo clamoroso. Noi ci siamo messi, eravamo cinque, io, mia moglie, lui, sua moglie, che era la mia migliore amica e un nostro amico comune. E lui si mette a leggere il regolamento, facciamo il setup, legge pagina pagina, cerchiamo di capire come funziona. La prima partita è durata quattro ore e mezza. Però... Ci siamo fermati, beh, compresa la lettura del regolamento, non è manco tanto. Cioè il regolamento è stato letto lì, che è uno degli errori più grandi che può fare una qualsiasi persona quando vuole introdurre qualcuno al gioco da tavolo. Cioè non fatelo, non fatelo, le persone al tavolino con voi si stresseranno, si annoieranno da morire, non capiranno nulla e avranno una pessima esperienza. In quel caso non fu così, perché finita la prima partita ci siamo presi una pizza, abbiamo mangiato e abbiamo rigiocato subito un'altra partita, tre ore. Abbiamo finito alle due, alle tre del mattino, non mi ricordo nemmeno. E ci siamo rivisti dopo una settimana e abbiamo rifatto altre due partite a Battlestar Galattica, una di pomeriggio e una dopo cena. E ci siamo rivisti dopo un mese e abbiamo fatto altre due partite a Battlestar Galattica, una di pomeriggio e una di sera. E abbiamo continuato così per un anno e mezzo, giocando solo a Battlestar Galattica. Tanto che il mio amico mi fa, ti potrei presentare alta tensione, è un gioco con le centrali elettriche, e dico, ma che è? Ma che stai scherzando? No, ma c'è Battlestar Galattica, no? Ma perché ti sei stufato di giocarci? E questo è anche il motivo per cui mia moglie non gioca più ai giochi da tavolo. Bene. L'indigestione di EBSG. Allora, la risposta esatta, vi dico una cosa. No, senza nemmeno un po' di pathos, dovevi dire, e la accendiamo? E io là che sudavo freddo, dicevo a Elena, ma siamo sicuri? No, no, guardi, ti vedo sicuro. Te la volevo dire, tu sai com'è il manuale di EBSG? È come non piace a Sava73. Tra l'altro io ne ho due dentro la scatola di Battlestar Galattica, perché all'epoca gli editori erano meglio. Ora non so se voi volete fare una puntata tutta su Battlestar Galattica, io potrei farlo. Io potrei farlo. Una volta gli editori erano meglio e a me arrivò a casa, arrivò a casa, il manuale ricorretto con tutte le errata della primo manuale, quindi un manuale stampato, preciso, preciso, bello, bello, tutto ricorretto. E' Giochi Uniti che l'ha corretto, no, il manuale? No, no, erano ancora editrici giochi. Erano ancora editrici giochi, sì, sì. E soprattutto mi spedirono insieme al manuale le patch, esatto, gli adesivi da mettere sopra il tabellone e le carte Presidente e Ammiraglio nuove, rifatte, perché la cosa bella, lo posso giurare sui miei figli che adoro quasi quanto Battlestar Galattica, che noi abbiamo sempre giocato con le regole corrette senza aver letto quelle carte sbagliate, perché le regole erano talmente intuitive, talmente giuste nell'ambientazione, che noi non ci siamo posti il dubbio del termine, non eravamo gamer, e questo è evidente, e comunque i giochi American vanno col tema, sono tematici, funzionano così. Giusto, giusto. Comunque, giusto per dire l'ultima cosa, poi passiamo alla domanda 2, l'editrice giochi e nel 2016 ha venduto poi tutte le sue proprietà, tutta la sua libreria, alla Spin Master, che è canadese, non so cosa faccia, non so se è in Italia, però proprio tutto, tutto, tutto e ha perso tutti i diritti. Quindi poi è stato ripreso, immagino, da Giochi Uniti. Prima da Stati Libri. Che è prima di diventare Giochi Uniti. Esattamente, e poi si è passato a Giochi Uniti, che hanno rifatto tutte quante le edizioni. Io non ho il coraggio di riprendermelo quello di Giochi Uniti, perché sono troppo attaccato alla mia copia pacciata e fallata di editrice giochi, non credo che ce la farei a giocare un'altra copia. No, ormai è un ricordo, come fai a sostituire i ricordi? È come se volessi sostituire un figlio. Non si può, non si può. Vai, domanda numero due, siete pronti? Siamo pronti. Allora, chi è l'autore del gioco per bambini? Ciao, ciao. Ah, vabbè, questo lo sa pure Elena. A. Johan Ruttinger B. Alex Randolph C. Uwe Rosenberg D. Paolo Mori Vabbè, lo dico io questo. No, però, tu devi fare tutto il... Siamo a... Non siamo quel quizone, qui siamo a chi vuole essere pezzotto, capito? Esatto, vuole essere pezzotto. Quindi adesso devi... Tu devi... Il quizotto, capito? Adesso tu devi dire, aspetta, allora, Paolo Mori, Paolo Mori, l'avete messo perché... Sì, Paolo Mori. Essendo un autore italiano... Ciao, ciao. Ciao, ciao, bravo. Volete ingannarci col fatto che essendo l'unico italiano qui in mezzo possa essere lui l'autore. Però... Vecchio, uscito magari in corrispondenza in Italia 90, dove c'era Ciao, ricordiamo. Esatto, esatto. Mamma mia, che brutti ricordi che mi hai fatto. Allora mi devo scrivere anche le quattro risposte perché sennò non riesco ad argomentare. Che delusione che è stata Italia 90, c'è una roba bestiale. Mamma mia. Io mi ricordo che ero... Ma si vede mangiata Ciao, eh. Io ero 19enne, in piena crisi ormonale, quindi assolutamente... Io quella sera non ce l'ho fatta stare con la mia ragazza, tanto ero depresso. Una roba bestiale proprio, cioè... Lei sarà stata felicissima, immagino. Ma non lo so lei come stava, io ero troppo depresso per pensare che esistesse qualcos'altro oltre... Cioè, quel mondiale era nostro, cioè, era proprio... Il nostro di diritto, c'eravamo la squadra più forte della storia, Roberto Baggio. Cioè, c'eravamo... C'eravamo una cosa bestiale. Schillaci, cioè, vi ricordate che squadrona che era quella? Sì, sì, ricordo, ricordo, però... Era nostro. No, no, vabbè, 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 quindi, no, Elena, scusami, di pure. Eh, non mi ricordo... Quindi, Paolo Mori io lo scarterei perché è un inganno. Esatto, scarterei, sì, esatto. Sì, è un inganno, è un trabocchetto. Sì, sì. Uwe Rosenberg è un altro. Esatto. Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, assomiglia ad altri giochi di Uwe. Poi è vero, no? La A era... No, 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 Fabio, per favore, non mi interrompere che sto parlando con la mia socia. Socia, eh... Primo non ve lo ricordo. Uwe Rosenberg, assomiglia ad altri giochi di Uwe, cioè, ciao ciao, assomiglia ad altri giochi... Eh, a voi. Cioè, ha riciclato questa meccanica Uwe Rosenberg. Ma non mi sembra. Non mi sembra, quindi anche Uwe Rosenberg... Non ci sono i polimini, non... Eh, lo scarterei. Poi c'è questo blef che non è proprio da lui. Non mi ricordo giochi col blef di Uwe Rosenberg. Mmm, mi puzza, mi puzza questo. Non è lui, dai. Lo possiamo scartare. Chi sono gli altri due? Eh, il primo non me lo ricordo. Allora, Johan Ruttinger e... Non so nemmeno chi sia. Randall. Penso che è uno famosissimo. Ruttinger. Mai sentito? Ma se lo so, ha inventato loro questo? No, dopo ve lo dico chi è. Ah, esiste per davvero... Però vedi, loro ci aiutano. Non sono infami come noi. Esatto. Però loro ci aiutano. Ma Fabio, ma che... Cioè, dopo ve lo dico, eh. Perché magari... Perché magari era autore. In effetti che era autore. No, devo stare zitto, va bene. Mi sposo. Non mi fare domande che poi ti rispondo. Ma io ti capisco perché anche a me viene ad aiutare i concorrenti. Poi mi mordo la lingua e dice... Non posso. Vabbè. Vabbè, dai. Allora, ne abbiamo appena parlato. Anche in una recentissima puntata di Radio Goblin. Con la presenza proprio della mia socia. Esatto, esatto. Io e anche il caro Sbem. Ne ha parlato lui di questo gioco. Ci gioca molto volentieri con la figlia. Ed è di Alex Randolph. Fermo! Mi stai distruggendo il format. L'ho già accesa, l'ho già accesa. Hai ragione. L'accendiamo? Vai. Ok, esatto. La risposta è Alex Randolph. Ora vi dico però chi è Routinger. Routinger è il disegnatore. Diceo ciao. Ma perché quel gioco c'ha i disegni? È la copertina, sa. Questa era cattiva. Copertina grafica. Ci sono qualche... C'è il ponte che bisogna attraversare. E certo, l'ha disegnato lui il ponte. Allora, no. Allora, vi dico che Routinger è sia un game designer che un illustratore. Lui ha illustrato ciao ciao un sacco di altri giochi. Comunque è nato nel 1947 e ancora fa giochi. Il suo ultimo gioco uscirà quest'anno. Si chiama Allegra Grande. E uscirà in Germania. E quindi poi, chi lo sa. Non è per i nomi all'italiana. I italiani, insomma. Sì, sì. Comunque faccio... Scusate un attimo che vado a dare una medicina e arrivo subito. Per gli altri a zero. Bravo. Gli altri a zero. Gli altri non sono nessuno. No, esatto. Qual è il primo traguardo, Fabio? No, abbiamo solo un traguardo. Settima domanda, mi pare. Allora, a questo punto io ti dico a Volmei. Volmei, guarda, qui taglia. E poi riprendi. Fra un attimo facciamo un minuto di silenzio, un secondo di silenzio e poi tu riprendi. E Volmei poi si offende quando io lo dico, lo sapete? Ah, sì? Sì, perché dice... Volmei è una persona estremamente precisa. E io ringrazio veramente il Signore tutti i giorni di avermelo messo sulla strada davanti a me. Insomma, che ci siamo incrociati e abbiamo cominciato a collaborare. Perché lui è preciso come piace a me. E come lo sono anch'io, su queste cose almeno, insomma, sono abbastanza, diciamo, rigido. E lui si arrabbia perché lui già sa quello che deve fare. Già sa che io farò fare il silenzio per dargli modo di innestare la cosa. E quindi si stranisce perché dice, perché me lo dici? Ci lo so. Ma riescerai mai a fare una puntata del quizone con Volmei presente come concorrente? Concorrente? L'abbiamo già fatta. Ah, me l'ero dimenticato. E anche visto. Grande! No, vabbè, ci sono così tante puntate. Io penso di aver ascoltato il 99%. Manca solo quella. No, non la scelta con Volmei. Ti so dire anche, la prima puntata mi ero anche andato a vedere di quando era, ma ritroso negli anni. Cioè, non so se tu... Lo sai che io non me lo ricordo la via? No, c'erano Teo e Sgananzium. Del quizone, sì. Del quizone Teo è la seconda puntata. Seconda? No, no, lo sono andato a vedere, è del 2019. Parli del quizone, parli? Quizzone, sì, io parlo del formato il quizone. È del 2019, è nato... Mi pare che Teo l'ha invitato alla seconda puntata e fu la prima puntata in cui lui, Teo, sull'undicesima domanda fece una polemica, tra l'altro anche sensata. E da quel momento, dalla seconda puntata, l'undicesima domanda è diventata la domanda delle polemiche. Perché noi abbiamo preso in giro Teo per un po' e poi è diventata storia. Allora, devo riguardare qual era la prima. Allora, la prima... Me la vado a rivedere in giro. Chi avrò mai invitato alla prima? E se lo sai che non riesco a ricordarmelo. Però noi ci abbiamo perso. Nella mia testa era quella la prima. Quindi no. Ci vado a guardare, dai. Oddio, può essere pure che tu abbia ragione Elena, però mi ricordo che Teo lo riuscì a coinvolgere un pochino dopo la prima. Allora, torniamo indietro nel 2019. Il 2019 è lontano, eh ragazzi. Ma faccio prima io, ho lo storico delle tre stagioni. Eh, infatti. Allora, l'ho trovata, nel senso ho trovato il file, quindi dovete solo avere la pazienza che Google me la scarichi. Eccolo qui, vai. Prima puntata. Trovata, 11 giugno 2019. L'hai fatto prima tu. E chi era? No, aspetta, aspetta. Chicca TNT. Sì, bravissima. Chicca contro Branco. Ok. Giusto, giusto. Sono i marito e moglie, scusate. Marito e moglie. Ok, quelli che avevano la collezione in... 6.000 giochi in due. Sì, mamma mia. Quanti, quanti ne hanno? Più di 6.000. Porca vacca. A casa hanno le pareti, semovibili, che sono librerie di giochi. Mamma mia. Una roba bestiale. Bellissima, bellissima. Vabbè, ma voi l'avete vista? Con i vostri occhi. Solo in foto. Anch'io solo in foto. Ero rimasto a 3.000, 4.000, più di 6.000, ammazzo. Complimenti. Eh, vabbè, sì. Non ci starebbero anche in casa mia. No, infatti, ma in casa di nessuno, 6.000 giochi. Peccato che non riesca a ritrovare quella puntata, perché può darsi che ritrovo pure la foto, insieme alla puntata. Se la trovi, la posso mettere nella chat? Ovvio che sì. Francesca. Allora, io mi ricordo che c'era una foto. Vediamo le chat in comune. Cioè, devo arrivare tra le chat in comune. No, perché non so se vi ricordate che c'era tipo il fondatore di Giochi Uniti, quello storico, che era un avvocato, che ha la sua collezione infinita. Io non so se ci arriva a 6.000 titoli a lui. No, penso di più. Penso almeno sui 10.000. Ah, di più. È terrata, sì, sì, sì. Ok. Ma parlate di Nonno Goblin. Lui c'ha una collezione sterminata. Ma chi lui? Nonno Goblin chi è? Adesso il cognome non mi sovviene. È un signore ultra sessantenne che vive in provincia di Ravenna e che è a casa in cui le pareti sono giochi da tavolo. Io ho perso il conto di quanti giochi abbia lui. No, questo qua è il fondatore di Giochi Uniti, che ogni tanto è comparso anche in tv sui giornali. Ma quello è Lorenzo Tucci Sorrentino, ma non c'entra nulla. Sì, lui ha una collezione infinita. Dice di essere il più grande collezionista di giochi da tavolo, ma non so quanti ne ha. Volevo fare un paragone. Lorenzo Tucci Sorrentino non è quello di Cranio? Sì, Cranio ha detto, no? No, Giochi Uniti diceva. Ah, Giochi Uniti, no. Di Giochi Uniti, è un napoletano. Napoletano, sì, sì, è laggiù. Ok, vabbè, comunque poi me lo vado a cercare. Volete andare con la terza domanda? Quando sei pronto riprendiamo, cioè tutta sta roba non fa parte del podcast, vero lo tagliate anche voi. Oh, certo. Certo. No, dai, va bene, abbiamo scoperto il cazzo. Cosa, cioè, cose belle, dai. Allora. Cioè questi hanno voglia di fare meno di Volmei, ti rendi conto? DJ, c'è? È tutto dire. Allora, terza domanda. Mac Gertz è un autore tedesco famoso per aver inventato La Rondella, una serie di giochi di cui fanno parte, tra gli altri, Concordia, Imperial e Navegador. Sì. Sapete dirmi lo sport preferito di Mac Gertz? Lo so, lo seguo su, lo stalkero su Facebook. Allora, sai già, va bene. Allora, A, la corsa, B, il nuoto, C, il ciclismo, D, il pattinaggio. Dai, lui tedesco, cioè, ma avreste messo in difficoltà con bere birra e mangiare salsicce alla Bud Spencer e Terence Hill? Allora, io non la so, però la corsa la escluderei. Non la sai? No, non la so. Non sei una sua follower? No. Io spero sempre di beccare su Facebook foto di lui che si inventa cose, fa prove di giochi da tavola. Invece no, mette solo foto della sua bici al porto, davanti alla sirena. Immaginavo che fosse la bicicletta. Hai presente Amelie con il nano? Esatto. Quando Amelie dà il nano alla sua amica hostess e il nano gira tutto il mondo e gli manda le foto al padre. Ecco, uguale è Mac Gertz con la sua bicicletta. Con la bici. Sì, sì, fa le foto della bici in giro per l'Europa, è una roba incredibile. Solo qualche giorno fa ha postato che era arrivato non so dove nel nord, è una roba bestiale. Quindi una bici di quelle belle corazzate, di quelle serie, insomma, con portafari. Che tanto, una bicicletta normalissima, standard, con i borselli laterali, bruttina anche un pochettino, no? Vissuta, diciamo. Quindi dicevamo il nuoto, ok. L'accendiamo? L'accendiamo, l'accendiamo. Il nuoto? No, la bicicletta. Il ciclismo. La risposta è esatto, esatto, esatto. Allora, io sono andato a vedermi un po' di cose, visto che lui posta sempre, ho scoperto che tipo nel 2017, nel 2018, lui ha fatto un tour di tre settimane per tutta l'Europa e ogni giorno, ogni giorno, era in un posto diverso con la sua bici. Ogni giorno per tre settimane. Io mi ricordo di avergli scritto un sacco di trollate sotto la chat in italiano e lui non ha risposto nemmeno a una. Si vede che era troppo stanco quando arrivava per rispondermi male. Sapete che mi ha risposto qualcuno, spero che sia stato Volmei, mi ha scritto Baccager. Ma noi siamo qui, quindi direi che è stato Volmei. Perché in questo istante ha detto, ah, ma siete ospiti da GSNT. E allora ha capito che eri tu. Ok. Ebbene, sapete che Mac sta editando un nuovo gioco e sapete che è un remake o comunque, insomma, parte dalla base di Imperial. Cioè, ma ha già fatto Imperial 2030? Cosa fa? Un altro, un terzo Imperial? Ha fatto pure la Transatlantic. Transatlantic, sì. E poi ha fatto Cross Oceans, no? Per ricorreggerlo. Ok. Si vede che gli è venuta voglia di rimettere mano su Imperial. Ok. E sta facendo qualcosa che parte da lì, però lui dice che è sostanzialmente differente. Io tutto quello che crea quel cervelletto lo adoro. E quindi, insomma, non posso che smaniare all'attesa di questo gioco. Ma è il tuo autore preferito? Assolutamente no. Che domande fai? Il mio autore preferito è Cori Konietzka. Scusami. E poi Mac Gertz se la batte con Tascini. Io adoro entrambi. Però non posso dividere la persona dall'autore di giochi. Cioè, nel senso, io mi lascio trascinare dal profondo affetto e simpatia che ho per entrambi. E sono tutti e due il tipo di giocatore che io vorrei sempre avere al tavolo con me. Tu decidi a cuore, con il cuore. Chi ti sta simpatico ti affezioni. Esattamente, è proprio così. E sì, non sono molto oggettivo in questo genere di discorso. Però io ho giocato una volta con Mac a Concordia. E lui ci ha strapazzato come pochi. Ci ha trollato tutta la partita. E quando abbiamo finito di giocarci, lui era a una cinquantina di punti dal secondo, che era il nostro più bravo che ci aveva giocato più volte. Noi eravamo tutti alla seconda partita. Tranne il arrivato ultimo, che è stato doppiato da Mac. E Mac gli ha detto, ah, immagino il mio gioco non ti sia piaciuto. Credo tu non lo comprerai. Così gli ha detto. Cioè l'ha proprio ucciso, capito? Ha saltato, trollato. È così ogni anno che lo rincontro a Play mi fa sempre spaccare dalle risate. E' meraviglioso. Un anno fedello gli si è inchinato, gli si è inginocchiato davanti e gli ha fatto, ti prego, benedicimi, ti prego zio Mac, benedicimi. E Mac che era venuto lì da noi solamente perché noi stavamo banchettando. Prima del Covid, parentesi, prima del Covid, noi organizzavamo sempre a Play il primo giorno di Play Quella Cosa Lì. Quella Cosa Lì, che è una citazione di Andrea Pinketz, Andrea G. Pinketz, uno dei miei autori italiani preferiti in assoluto, di romanzi noir, diceva sempre, usava questo stratagemma con i suoi personaggi, ah, quella cosa lì, quella cosa lì, come per dire qualcosa di segreto che non lo sa nessuno. E noi quella cosa lì era, ci incontriamo tutti il primo giorno di Play, ognuno porta da casa sua qualcosa da mangiare di locale, ci si vede all'ora di pranzo in qualche posto segreto e si mangia tutti insieme, tanto che quando Play ci ha scoperto ha fatto di tutto per chiuderci quella cosa lì. E Mac, vabbè, dovete capire che lì dentro ci sono persone, i ristoratori che pagano per vendere roba da mangiare. E quindi Zio Mac si avvicinò, invitato ovviamente da noi, a mangiare qualcosa e subito Fedello lì a importunarlo gli fa, ti prego benedici, mi ti prego. E Zio Mac era combattuto fra rimanere lì e mangiarsi ancora qualcosa e scappare da questo pazzo infogliato che voleva toccarlo, no? E' una cosa spettacolare, fantastica Zio Mac. E cosa ha fatto alla fine? L'ha benedetto. È rimasto, però non l'ha benedetto, ha detto, no, voglio, no, devi soffrire. E lei ha fatto, ti prego, fallo, ti prego. Ora vogliamo scoprire anche chi è l'autore preferito di Infinite Jest. Allora, ti dirò che non ne ho uno fisco, perché comunque, se ti dovresti dire uno così pronti via, vabbè, Wallace è un genio, ti devo dire. Però, però vado un po' cercare di solito a cuore più che altro mi piace cercare autori che abbiano la libertà di svisare un po', cioè di uscire dall'ordinario, di usare quel qualcosa in più che di solito, cosa che di solito riescono a fare gli autori che hanno anche, possiedono la casa editrice. giustamente. Ah, proprio così? E quindi Jenna Felli, ex Jim Felli, quindi con la sua Divius Willis Air Games, fa delle cose assurdamente strane, però è una follia lucida, ecco. Amiri il coraggio. Esatto, avere il coraggio, oppure, non so, a me la prima persona che mi è venuta in mente era Matt Leacock che ha inventato i Legacy praticamente, perché fuori dagli schemi, più di così. Io pensavo invece avrebbe detto Martino Chiacchiera. Ah, è vero. Il Mattino Chiacchiera è un pazzo, è fantastico quello che riesce a inventarsi. Sì, 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 ci sta, ci sta, è vero. E io invece sarò un po' più nostalgico, avrei detto Vlada. Mmm, è caspita. Perché lui comunque ti fa quello che vuole spaziando da ogni genere. Eclettico, sì, assolutamente. Eclettico, sì. Sì, sì. Va bene, va bene. Quindi 3 a 0. Passiamo alla quarta domanda? Quarta domanda. 3, dai. A 0. 3. Facciamo 3 punti. Questa è più difficile, eh, ragazzi, perché stiamo salendo. Allora, allora, allora. Agricola. Agricola. È uno dei più grandi successi German di tutti i tempi. Su BGG lo troviamo al 52esimo posto nel Rank Overall e a Novera 18 editori sparsi per tutto il globo e una reimplementazione del calibro di Caverna uscita nel 2013. In che anno è uscita la prima edizione di Agricola? A 1990 B 2000 C 1995 D 2007 Questi ci vogliono fregare con questi giochetti. Ma quando, allora, prima di tutto, Agricola non è uscito negli anni 90. Eh, infatti, era quello che avrei tolto subito. Sì, sì, sì. E quindi ne eliminiamo due. No, no, grazie, le eliminiamo da soli, grazie. teniamo gli aiuti per domande più complicate. Quali erano le due date? 2000 e 2007. 2000 e 2007. No, non è nemmeno del 2000. No, infatti, anche secondo me. No, no, fa parte della nuova generazione di giochi da tavolo moderno. Infatti. Sì, comunque calcola che io ho scoperto Agricola nel 2017-2018, eh, quindi fai te. Mi sono sempre rifiutato di giocarci perché me lo presentavano come un multisolitario e a me, già detta così, un gioco mi ammoscia ogni genere di velleità, di confrontarmici. In più, diciamo che l'argomento bucolico che è proprio esasperato nelle ambientazioni dei giochi da tavolo German non era proprio attraente, diciamo così. Vero, vero. Poi ODK che invece è un grande amante di Agricola, ma proprio grande amante, una sera che gli andava a lui e non avevamo nulla da giocare di differente, eravamo rimasti da soli, mi fa ti spiego Agricola. Io dico va bene, tanto peggio che guardare la Lazio in televisione non può essere, insomma, io sono abituato a soffrire e mi spiega Agricola, ci facciamo una partita in cui lui mi massacra e, cioè, non dico che è nato un amore, però, cioè, gioco bellissimo e soprattutto non è un multisolitario, cioè, ti dai un fastidio clamoroso con un'interazione indiretta come solo solo nei migliori german. Sì, tantissimo tra l'altro. Io l'ho scoperto tardissimo perché io mi trovavo nella condizione che ce l'avevano tutti e quando tu dici ma ce l'hanno tutti perché ci devo giocare ora? Giochiamo a un qualcos'altro che non mi potrà mai capitare, quello ce l'hanno tutti tanto ci posso giocare in qualsiasi momento. Come io che non sono mai entrato al Colosseo, uguale. Quindi, alla fine ce l'avrò giocato per la prima volta tre o quattro anni fa ma prima non ce l'avevo mai giocato. Io invece devo mettere Agricola come uno dei titoli dei miei primi acquisti. Io ricordo a un Lucca credo 2010 me ne sono uscito dallo stand dei Giochi Uniti con nella borsa Agricola Alta Tensione e Dominion. Caspita! Ho fatto una bella triaga. Comunque la risposta che accendiamo qual è? Considerando che Puerto Rico è del 2002 Porto Rico Sì, ha 22 anni. Quindi è del 95. Anch'io sarei per posticiparlo rispetto a Puerto Rico. Io mi sento abbastanza tranquillo nella data più alta che ci hanno detto. Sì, 2007 quindi. E la risposta è esatta. Non ce la fai accendere niente! Allora io Elena, te lo dico adesso, te lo dico adesso, quando noi abbiamo un dubbio, noi spariamo la risposta con sicurezza, così come ha fatto te. Poi lui dice ah, è questa è la risposta sbagliata, ma veramente noi non avevamo acceso la risposta, ne stavamo ancora discutendo, sembravamo sicuri che fosse la risposta esatta, ma ne stavamo ancora discutendo, capito? Io fremo. Matteo lo dica te, te l'ho anticipato, lo faremo, lo faremo. Sì, 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 ma non vedo l'ora, guarda. Grazie, amiconi. Ma ora, bravo Fabio, sei proprio bravo, bravo, farai il quiz. Avevano azzeccato. Quinta domanda, questo è un impegno. Allora, Mangia, preda, chiama. È la versione italiana del gioco Prey Another Day, uscito in Italia da MS Edizioni, in questo gioco di carte, devi predare letteralmente gli animali degli altri giocatori con cinque animali. Quali sono questi cinque animali? A. Questa la sa Elena. La so, la so. L'ho giocato. A. Orso, lupo, lince, gufo, topo. B. Orso, lupo, aquila, gufo, serpente. C. lupo, capibara, tigre, scimmia, topo. D. Lupo, tigre, aquila, anatra, topo. Allora, Elena, non dirlo perché io non lo so, però, no, non lo so, non lo so, quindi la risposta buona è quella che dirà Elena. però, però, mi ricordo l'avatar del tizio, la porchetta, come si chiama. Matteo. Matteo, simpaticissimo, che è un orso. E adesso non sono sicurissimo, ma nelle risposte che ci ha proposto Fabio, l'orso mi sa che compare tipo una volta sola. E mi sa che sia. ora non so nemmeno che animale sia. A due, due, ok. Ah, ok, perfetto, quindi escluderei tutte le altre e mi concentrerai su quella con l'orso. Poi lascio la parola a te, altro non so. Ok, ok. Se facevate questo stesso ragionamento per il lupo, il lupo era in tutti e quattro. Eh, ma io mi ricordo l'orso, che ci posso fare se porchetta si è messo l'orso? Il topo è in tre su quattro. Io direi l'inquietante orso, perché c'è una faccia veramente quasi libginosa. Sì, sì, sì. Adesso magno tutti. Sono tutti inquietanti. Quindi l'orso c'è. L'orso c'è. Il topo anche. Posso fare un piccolo aiuto? C'è anche il lupo. C'è anche il lupo, c'è il topo, c'è il lupo. Qual è la discriminante fra le due risposte? Qual è l'animale che cambia? Allora, nella A, nella A c'è orso, lupo, lince, gufo, topo. Nella B c'è orso, lupo, aquila, gufo, serpente. Le altre due le ho eliminate, perché non c'è l'orso. Prenditela con porchetta, non è colpa nostra. No, ci mancherebbe. Grazie porchetta di questo aiuto involontario, grazie, grazie. Grazie porchetta. Invece l'aquila, secondo me, ce l'hanno messa perché sanno che io ti folazio, però non mi ricordo, non mi ricordo. No, no, infatti, neanche il serpente, no, no. sei sicura? Sono sicura, ringrazio Matteo, un altro Matteo Croptos, che è mio compoesano, che me l'ha fatto provare, quindi, assolutamente sicurissima, orso, lupo, lince, gufo, topo. L'accendiamo? Sì, sì, l'accendiamo, l'accendiamo. Che bravo, quanto è professionale questo presentatore, com'è professionale, bravo, bravo. Mi piace molto, sono un suo fan dalla prima puntata. E la risposta è esatta. Bravi, bravi, bravi. Siete alla quinta. Finalmente una siamo riusciti, a accenderla, dopo la quinta domanda. L'abbiamo fatto anche noi dei progressi. Beh, il quizotto non è perfetto, no? Deve avere un quizotto. è un quizotto. È giusto un quizotto. Cosa si pretende, è un quizotto? Dai Sama, che tra poco arriviamo al primo traguardo. Dai, sono emozionatissimo. Ci siete quasi. Quindi, andiamo? Vai. Vai. In quali di questi giochi, simuli una partita flipper? Ah, la so, quello di frise. A, Ficom Floors. B, Freaky Frogs. C, Fuji Flush. di Flipper Cavallo Goloso. Magari esistono poi sti giochi, eh? Esistono tutti, tranne uno, che non vi dico qual è. E sono tutti il cavallo goloso. È un gioco di destrezza, eh? Sono tutti di frise, di frise comunque. Vabbè, io l'ultimo, non lo bypasserei, Sava, non so tu, eh? Firson Floors, anche. Bellissimo, tra l'altro, gran bel gioco. Però, col flipper, anche no. Gli altri due, non mi ricordo i titoli. Freaky Frogs e Fuji Flush, che potrebbe anche pronunciarsi Fuji Flash, non lo so, però... Flash è lo sciacquone, cioè il monte Fuji, lo sciacquone del Fuji. Sì. Del Fuji. Oddio, io sarei più sulle rane, Sava. O chiediamo un aiuto? Allora, dammi, da... Allora, 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 sì, anche io sono su quello delle rane, Nel senso che mi ricordo vagamente sto, sto coso con le rane, c'era una cosa, la copertina strana. Allora, me li rileggi un attimo, perché, cioè, non riesco a ricordarmi, l'ho ascoltato due volte, l'hai detto due volte. Allora, no, vi dico anche le copertine, ora se riesco. Allora, ah, che razza d'aiuto! No, dalla copertina non ho indovinato. Stai giocando con loro, fondamentalmente. Allora, lui si è smazzato, a differenza tua, per farci undici domande, no? Cioè, adesso lo stai pure criticando, è normale che voglia... Scusa! Esatto! Dai! Allora, Fearsome Floors? Eh no, perché quello è Oscuri Corridoi, è sempre di frise, e ci sta Frankenstein che vaga nel suo dungeon, e si mangia... si chiama... Fuggi Fuggi Fuggi. Oscuri Corridoi, ah, Fuggi Fuggi, perché Oscuri Corridoi è la traduzione letterale del titolo tedesco. Però poi Giochi Uniti l'ha cambiata in Fuggi Fuggi. Eh sì, perché deve tenere sempre la F. E era quello che stavo cercando di capire dai tuoi titoli, le due F dove stavano? Eh sì, F e F, poi c'è Freaky Frogs, che quindi è corretto, è questo. La copertina di Freaky Frogs è quella dove c'è... ci sono... Una rana. Le ranacchie... No, le rane nello spazio, su, sopra gli UFO, non so come spiegarvelo, però... Ok. E poi Fugiflush o Fugiflash. Ah, anche questo però c'ha due F. Ah. Fugiflash c'è un 20 scritto in centro copertina e poi tutto attorno dei numeri. Beh. E tu ti ricordi la rana? Io mi ricordo la rana. E poi c'è Flipper cavallo goloso che c'è un cavallo. Ah, esiste? È un delfino. Flipper è il delfino. Eh. Ma questo è un cavallo goloso e c'è un cavallo. Ecco. Allora, avevo un dubbio vago nel senso che anche io come Elena mi ricordavo la rana in copertina. Tu mi hai levato ogni dubbio dicendo che quello che c'ha il 20 io giochi di quest'anno con copertina un numero non me ne ricordo manco uno di Frise quindi e tra l'altro non mi ricordo manco un gioco di Frise e magari ignoranza mia con il 20 in copertina io mi sento abbastanza tranquillo su Freaky Frogs. Sì, anch'io Sì, anch'io Sì, anch'io Sì, sicuri Sicurissimi Lo sai che Frise è il mio terzo autore preferito? L'accendete? Sì, sì Fugiflash è un gioco di Frise dell'Occhi Uniti è un gioco di carte veloce esattamente come Freaky Frogs dove devi simulare il flipper bella domanda non lo so Tronica due o tre anni fa quindi è anche recente io proprio non me lo ricordo abbastanza recente direi io guardo sempre con attenzione a quello che produce Frise perché veramente è fra i miei autori preferiti in assoluto lui è molto trasversale costa una decina di euro il gioco è una cosa velocissima cioè accessibile e non deve essere tanto vecchio è vero è del 2016 ah no 8 anni difficoltà molto semplice siamo a 1.5 ma soprattutto non vorrei dirvi una cazzata è uno di quelli di Frise in rank più alto come? addirittura? sì ha superato alta tensione anche no alta tensione no no ho detto una cazzata non è tra i più alti e i più alti sono Power Grid Power Grid l'edizione quella con l'Europa poi c'è Friday Fable Fruit Fayum e Fauna ma pensa Fable Fruit sta così alto sì è molto gusto e poi è un gioco molto carino però insomma però con i fagiani invece no fa zanieri invece no quello con i fagiani non c'è proprio non lo vedo neanche nella prima page mi hai fatto venire la curiosità ma non e neanche 504 quello che aveva fatto la scatola con 504 giochi diversi vabbè quello è un esercizio di stile non sì esatto possiamo dire quello che vogliamo comunque continuiamo a parlarne di quel gioco quindi un po' di pubblicità se l'è fatta sì ma poi io gli voglio bene a lui io gli voglio proprio bene al signor Frise mi ha anche autografato la scatola di alta tensione quindi sono contento la fa zanieri proprio non lo vedo non c'è l'ha eliminato non è nella prima pagina non è tra i primi 25 non mi tupisce peccato però vabbè quindi siete a 6 avete risposto correttamente a 6 domande e passiamo alla settima pensa che se rispondiamo bene alla settima poi c'è l'ottava ma abbiamo tutti gli aiuti potremmo usarne uno per ogni domanda oppure potete anche usarne più di uno per la stessa domanda bravo lo sai che non c'era arrivato da solo mi pare un ottimo consiglio magari per l'ultima la prossima domanda è facilissima perché Fabio mi sta influenzando da questo punto di vista cercando di aiutarvi stessa domanda siete pronti? no è già fatta ora questa domanda quindi eravamo prontissimi non solo pronti la settima è facile c'è il traguardo la settima domanda è la domanda da paralisi da analisi un attimo che ci penso e poi me la faccio guarda che flavor che mettono le domande fantastico pensa che Elena ancora ride ancora ride a questa battuta è incredibile dopo anni che la sente penso che darò in poi e riderò anch'io quindi in Amazzonia dobbiamo creare un ecosistema fiorente durante la partita ci stanno copiando la domanda è una citazione colta bravo 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 e io ti dirò questa domanda risponderà Elena e io volevo far rispondere a te vabbè ma vabbè se volete rispondere ho fatto la domanda eh però eh ma ci credi ci stai ancora pensando sei in paralisi d'analisi giusto durante la partita andremo a posizionare delle pedine sugli alberi ma che forma hanno queste pedine a fiori b frutta c animali d liane allora io so solo che servono per non contare due volte i punti bravissima vedi che ecco per ricordarti che quel pocoso l'hai già contato giusto però io il gioco non l'ho preso non ce l'ho non è nelle mie corde penso è roba di Elena tutta la vita sì questa è roba mia perché mi piacciono anche i giochi a tema naturalistico e quindi sì allora non sono liane Sava non sono fiori perché c'è sugli alberi ci sono i fiori no no i frutti neanche però ci si arampicano gli animali ci si arampicano gli animali tipo le scimmie le scimmie e altro che sono uccelli vari uccelli mi sembra anche un serpente se non vado errata forse mi confondo con le carte no comunque sono in generale scimmie e uccelli vari quindi sono sicura ce l'ho sicura sicura è la tua risposta definitiva abbio stiamo per sbagliare abbio sbagliamo l'accendete sto zitto vabbè allora l'accendete siete sicuri io mi fido ciecamente di quello che dice Elena ma proprio ti metterei la mano sul fuoco che è giusta io giusto solo per caricare un po' di pressione dico solo che questa è l'ultima domanda poi raggiungete un traguardo siete sicuri dai vorrei raggiungerlo questo traguardo era facile quindi me la sento calda ok quindi l'accendiamo yes e la risposta è esatta bravi mamma no pensavo che stessi per dire che è sbagliata avete raggiunto il traguardo è incredibile quindi ora io devo dire la super cazzola però per ora la decido io la super cazzola a noi sta bene anche che la decidi se la diciamo noi cioè indifferente sappilo va bene comunque il gioco ho visto la grafica è bellissimo non l'ho mai visto dal vivo l'ho scoperto su BGG e poi ho visto che è di 2 e 3 sono belle le illustrazioni non è così malaccio non sembra così malaccio no no è un gioco più che altro da 2 ma si può giocare anche in 3 o 4 attenzione perché è non viene molto pubblicizzata sta cosa è piacevole diciamo un coloretto un po' più arricchito un gioco anche di collezione set di combo varie però è leggero ovviamente però una mezz'oretta mezz'oretta 40 minuti in 2 è gradibile mi dico di più è rilassante con tutto quel verde quest'anno deve uscire l'espansione pure si chiama evergreen da 1 a 4 stavolta va giocatori mi suona come come un po' scopiazzato evergreen non è anche l'espansione di un altro gioco aspetta adesso mi sfugge ma sempre di questi molto german quando me lo ricordo ve lo dico no mi sa che c'era proprio il gioco evergreen è un gioco ah è vero è proprio il gioco non è l'espansione è proprio il gioco hai ragione è uscito pochi quello della horrible guild esatto esatto dove devi tempare gli alberelli sì sì una sorta di rivisitazione di fotosintesis esatto 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 ma anche per l'autore è sempre almarac quindi sì 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 bene bene oh siamo all'ottava domanda ragazzi qui si va velocissimi vi vedo preparati comunque il tempo vola quando ci si diverte vero vero allora parliamo di rank nei primi dieci titoli in classifica su bgg troviamo nomi come press pandemic comic legacy season one gloom heaven arc nova twilight imperium quarta edizione dune imperium terraforming mars war of the ring seconda edizione star wars rebellion e gloom heaven joe of the lion qual è il titolo più vecchio tra a brass b gloom heaven c terraforming mars di war of the ring seconda edizione una puntualizzazione brass si intende prima in classifica quindi birmingham birmingham ok ok avete fatto bene a dirlo ci avete salvato perché io avrei detto brass e invece no perché io invece no sono lì giù alle regole l'avrei chiesto infatti sì sì perché war of the ring però anche anche war of the ring ci hanno detto la seconda edizione che comunque è quella che hanno fatto iper mega giga costosissima hanno fatto la l'edizione pure quella com'è che si chiamava l'edizione oddio stava in una valigetta costava mille euro con la porno lusso sì una roba fuori da ogni e io me lo ricordo perfettamente perché fu l'anno che mi iscrissi in Tana tipo il 2011 e e tutti che parlavano di questo gioco cioè quando chiedevi qual è il gioco che costa di più in assoluto allora il primo che nominavano sempre era quello di di martin wallace che all'epoca non si trovava l'edizione il gioco era oddio mi sfugge il nome quello in cui tu non sei esattamente un giocatore ma controlli le casate in italia e devi acquistare armate no non lo conosco eh ma adesso che ti dico il titolo lo conosce come girare principi del rinascimento prinzo rinassenza e all'epoca era andata esaurita subito la tiratura della prima copia di questo gioco però era piaciuto tra l'altro gioco bellissimo bellissimo giocarlo da vederlo è una cosa che anche oggi la riedizione manca a toccarlo con uno stecchino da lontano e quel gioco lo vendevano a 100 110 euro che nel 2011 non se lo poteva permettere manco la splotter spellen per capirci eh quindi era un costo e quando dicevi no però c'è world of the ring l'edizione quell'autori costa mille euro eh eh vabbè ma dentro c'è eh che mille euro non è un gioco mi ci rifaccio il bagno esatto ci deve essere dentro Frodo e l'anello è tipo una roba del genere sì capito vabbè ma torniamo alla domanda esatto alla domanda Sava eh qual è quindi il più vecchio allora avevamo detto Brass però Birmingham poi abbiamo Terraforming Mars Terraforming Gloomhaven e War of the Ring la seconda edizione Sava io starei per War of the Ring io pure cioè 2011 non credo che Brass sia il Birmingham sia prima del 2011 no 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 assolutamente Terraforming Mars neanche stavolta assunzito ragazzi ho imparato la lezione per me Fabio sta zitto per me Fabio sta zitto perché abbiamo detto la risposta giusta se avessimo detto la risposta sbagliata lui che c'ha le ultime domande che sono fighissime e vuole leggercele adesso in questo momento ci direbbe ma insomma perché questa cosa che Brass però da notare come anche io che non ho le domande sotto mano ho una memoria di ferro per ricordarmi tutti i titoli che sono stati detti quindi la vostra scelta ricade proprio su War of the Ring seconda edizione siete sicuri? non parliamo di Brass Brass parliamo di Brass Birmingham non c'ho nessun dubbio se mi dice in Birmingham c'è la birra? sì perché l'altro è Lancashire giusto? sì esatto no no ma adesso mi hai levato ogni dubbio chissà perché dentro di me pensavo a Brass primissima edizione quella col tizio beige la copertina beige tutto quanto quella che ho anche io bruttissima da vedere però il tabellone il tabellone è qualcosa di meraviglioso secondo me sì ma le monete? no quelle sono le monete di Wallace sono tutte così le monete no no Elena se c'avevo un dubbio è scomparso Fabio il buon Matteo il buon Matteo me l'ha levato grazie Matteo sei stato più risolutivo di Fabio con il tuo aiuto non avrebbe potuto aiutarmi di più eh lo so credo che Fabio si sia talmente emozionato che è scomparso è tornato è tornato è tornato è tornato allora cos'è che avete acceso? io ho detto che Matteo mi ha aiutato molto più di quanto avresti potuto aiutarmi sì levandome l'unico dubbio che avevo su Brass Birmingham e cento per cento la guerra della sì con la birra con la birra ma assolutamente levato ogni dubbio è la guerra dell'anello seconda edizione 2011 ok anche per te Elena ok va bene guarda come semina zizzania guarda che Elena l'ha detto prima di me io non voglio prendermi meriti Elena prima ancora che io dicessi tutta quella storia sull'edizione aveva detto che gli puzzava al Brass e che era abbastanza sicura sulla guerra dell'anello la risposta è quella giusta bravi allora comunque sia War of the Ring sia la prima che la seconda edizione sono tutti e due vecchiotti perché una è del 2011 l'altro seconda edizione del 2011 la prima edizione del 2007 mi pare stavo guardando Lancashire prima che saltassi Lancashire però dovrebbe essere del 2007 in effetti ecco vedi per questo Matteo mi ha levato il dubbio il Brass comunque è del 2018 questo sono sicurissimo perché ci ho guardato tempo fa ed è il gioco più nuovo tra quelli che ho elencato Gloomhaven è del 2017 Terraform e Mers è del 2016 e l'avete letta l'intervista a Wallace in cui gli chiedono ma che ne pensi del fatto che il remake del tuo gioco sia primo in classifica non l'avete letta comunque sintetizzando lui dice non capisco come faccia a piacere un gioco oggi un gioco con un'ambientazione così poco attrattiva grande Wallace grande Wallace grande grandissimo la rivoluzione industriale comunque attira sempre come ambientazione se lo dici te io preferisco zombie in Australia con Cthulhu che ti vuole distruggere le ferrovie perché tu sei giocatore American quello è un po' American il gioco non è così American però Wallace riesce a mischiare meccaniche e ambientazione secondo me in maniera sapiente mi piace da morire anche a me insomma piace moltissimo Wallace comunque Brass la prima edizione Lancashire ce l'ho qua davanti è 2006 addirittura ho sbagliato di un anno allora potrebbe essere perché comunque c'è poi scritto sotto la pubblicazione dell'edizione che c'ho io del 2009 ma le regole sono sotto copyright dal 2006 controllato giusto Aurora bravi bravi comunque è stato bravissimo Sava che ha azzeccato proprio l'anno 2011 l'edizione l'edizione porno lusso ho provato a cercarla in vendita prima mentre parlavate ma non l'ho trovata ci credo quella porno lusso che ormai è andata esauritissima ma era in pochissime copie una roba bestiale mi ricordo c'è quello e c'è l'altro gioco di maggioranze aiuto aiuto quello che ogni tanto lanci il dato non solo fai la maggioranza ma se vuoi puoi lanciare il dato per controllare se hai vinto in caso di pareggio ma stiamo parlando sempre di edizioni porno lusso si 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 abbiamo fatto una puntata di Radio Goblin in cui Killaprist e Ken Parker ci portavano i giochi più costosi in assoluto e i giochi meno costosi in assoluto e Killaprist parlò di questo di questo di questo c'è la parola world nel titolo small world small world edizione pure questa edizione autori una roba del genere eppure quello sopra i 1000 euro o comunque lì intorno a quelle cifre una roba bestiale no queste cose mi sono rimaste impresse difficile scordarsele ma Fabio hanno indovinato 8 domande su 8 vorrei bere un po' di birra su quel gioco lì voglio vedere senza sotto bicchiere esatto senza sotto bicchieri senza niente il minimo i giochi vanno giocati così vanno goduti vanno vissuti io sono uno contro anche le bustine contro le bustine no quando c'è da mischiare un gioco di queste identità nascoste bleffe non puoi permettere alle carte di rovinarsi in maniera dissimile posso che ci sia qualcuno che le sappia mescolare senza segnarle infatti lì sotto sono io il mescolatore non ti fidi eh no vai bene ma passiamo alla nona domanda nona domanda ta 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 allora c'è davvero qui sotto questa è la domanda defustellata no io so i giochi nella plastichina io non ho mai indovinato una domanda defustellata mai io la chiamerei Matthew è difficilissimo chiamerei Matthew davvero sì allora allora ora vi dirò quattro titoli ma quali i titoli ci dici sì sì ve li dico però dovete indovinare quali di questi quattro ha i seguenti materiali ora vi elenco i materiali 83 83 token sagomati di 5 beni differenti una plancia a doppia faccia 48 monete in taglio da 1 2 5 e 10 72 carte di cui 65 carte personalità 5 token segnapunti 15 qua vi leggo la traduzione coloni terrestri sono token in legno e 15 navi anche le navi sono token in legno le quattro risposte a concordia b arcnova c le havre d solkin allora ragioniamoci un attimo gioco per cinque giocatori direi ci puoi rileggere le arcnova concordia le havre non ha una plancia con due disegni quindi io le havre già lo escluderei e l'altro che hai detto qual era l'ultimo solkin solkin anche non ha una plancia a double fast dal poco che ricordo io c'è che io sarei su arcnova però sento personalità qualcosa di terrestre non mi ricordo cos'era terrestre allora rileggici rileggici le cose che adesso conoscendo i giochi è più facile ok allora 83 token sagomati di cinque beni differenti e i cinque beni i cinque beni anche in concordia ci sono no eh sì che c'è il il mais c'è il il vino se non mi sbaglio c'è un mattone eh sì poi che ti ricordi tu eh 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 le stoffe le stoffe sì può essere erano viola ti ricordi qualcosa eh o sì o forse viola era il vino no blu forse le stoffe siamo a quattro stiamo facendo fatiche io il problema è che Ark Nova non non ci ho mai giocato perché Camillo dice che non è un gioco per me e non mi ci ha voluto far giocare ma forse perché lui ha fatto sette partite tutte sette con la moglie tutte sette perse tutte sette perse e magari se perdeva pure con me era proprio la fine capito? con di capo e furbo sì può essere che fosse quello il motivo chi lo sa va bene tutti tutti gli indizi vero? va bene questo però vedi non è il quizzone questo è il quizzotto noi possiamo ragionare a voce alta e magari ci viene qualche ispirazione allora rileggici rileggici le le cose magari riusciamo a intravedere qualcosa che ci dà allora 83 token sagomati di 5 beni differenti è ok sagomati sagomati questa è la cosa importante su Concordia sono sagomati su Ark Nova non lo so non avendoci giocavo no sono carte no secondo me no sono cubetti? no sono carte credo cubetti ok e ci sono personalità in Ark Nova mentre in Concordia ci sono le divinità più che le personalità infatti in Ark Nova penso che ci siano dei degli individui che fanno cose non so l'ornitologo piuttosto che però pure quelle possono essere personalità infatti è quello che mi confondeva però questa cosa non è una discriminante le risorse sagomate ci sono anche le monete le monete le monete come sono queste monete non le dice quante monete sono? no no 48 no no aspetta 48 monete in taglio da 1 2 5 e 10 no le monete in Ark Nova non penso che ci siano lì mi devi aiutare tu io non ci ho mai giocato ho solo visto delle foto ok non ti ricordi le monete non mi ricordo monete non mi ricordo monete poi ci sono i 15 coloni terrestri che sono token in legno e questo ci può essere 15 navi le navi ci sono in concordia ci sono il token in legno sì no 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 in Ark Nova è sempre più concordia vero? ci sono 5 token segna quante sono le navi scusami? 15 calcola che in Solkin navi questo proprio per escluderlo definitivamente non ci sono proprio e in Le Havre sono tante quante i giocatori quindi già il tabellone double fast ce le escludeva sono abbastanza sicuro che non abbiano un lato B quei tabelloni anche perché come fai a girare i calendari no? quindi no su Ark Nova appunto per le personalità ci potevano essere appunto degli scienziati naturalisti anche lì no però tutto il resto non tornava ok 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 sì sempre più concordia sempre più concordia sì Fabio sei felice di rispondere aiuto sei felice di questa nostra sei felice sì in effetti finora è stata una passeggiata dai quindi finisci gli indizi cos'è che nobili ah 72 carte di cui 65 personalità e 5 token segnapunti sì 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 ma i token segnapunti sarebbero le cartelle per giocarci sopra token segnapunti che sono sono quelle non ti posso aiutare perché altrimenti le chiama ma le chiama proprio così le chiama io non so a che gioco tutti però ti stia riferendo allora arcnova a 5 giocatori non ci arriva e 5 cartelle segnapunti concordia tutti gli indizi che abbiamo che abbiamo 5 token segnapunti e che cosa ci segni secondo te i punti per ogni giocatore sul tracciato sul tracciato sul tracciato e i 5 giocatori arcnova non ce li ha no infatti no allora ripeto con quel poco che so di arcnova cioè pari quasi a zero e quello che so di concordia che ci ho giocato tantissimo ma ormai anni e anni fa io mi sento abbastanza tranquillo sul concordia poi questi due sono infami se noi gli diciamo di farci 50 e 50 ci lasciano concordia e arcnova io sono capace pure di telefonare a magherz però secondo me lui non si ricorda tutte queste cose quindi quindi io andrei su concordia e oh e se la puntata finisce qui abbiamo fatto un'ora e mezza di registrato saranno contenti gli amici di gsnt eh si a voglia ok ok vai ti seguo quindi e la concordia la accendiamo si la accendiamo e la risposta esatta ah grande bravi no ci ho avuto un po' di paura però poi alla fine cioè tutto tornava giusto perché non puoi avere la riprova no siete stati bravi anche perché ho cercato quattro giochi che comunque avevano qualcosa in comune tra di loro ora non mi ricordo cosa però qualcosa in comune ci vedevano quindi quando cercavi i materiali ognuno di questi giochi due di quei materiali che ho detto aveva qualcosa di simile però il tabellone il tabellone double fast è stata una bella discriminante eh non tutti i giochi ce li hanno il tabellone no no è difficile ma è questa scala perché da una parte due tre giocatori dall'altra quattro e cinque e poi hai preso tre giochi che mi piacciono da morire tutti e tre e Ark Nova che non lo conoscevo se no andavo più facile andavo più diretto sì ma penso che non lo toccheresti neanche vero quindi Camillo c'ha ragione col binocolo da marina guarda non ci ho mai giocato neanch'io perché tratta di zoo se lo volete sapere e non mi sembra un argomento carino da trattare quindi personalmente non ci ho mai voluto giocare bravo mi piace questo punto di vista un'ultima cosa la butto lì così adesso se fate undici su undici vi faccio io un'ultima domanda un ultimo giorno pure fantastico siete troppo bravi facciamo due puntate sì la spezziamo in due guarda facciamo la rivincita allora passo alla decima vai alla decima se non ce ne abbiamo un'altra migliore la decima è carina allora vorrei la decima sì grazie me la sono studiata bene allora zuck um zug ah sì ticket ride e la pronuncia tedesca di ticket ride no 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 ti prego no non anche qui no no quali di questi nomi alternativi di ticket to ride è sbagliato oh signor dai a a meno lippu b aventureros al tren c les aventurier du rail d omalirev è ungherese ragazzi omalirev quindi non so la pronuncia allora il secondo e il terzo sono spagnolo e in francese quindi ci siamo ok io sto omarilev non è che uno di quelle parole che lette al contrario ti dicono sei uno scemo queste cose qui tipo no scemo chi legge esiste esiste veramente e poi vi dico di tutti e quattro dopo di di che gioco sono io ringrazio sempre fabio per il suo grande aiuto e quindi direi che omarilev è la nostra risposta definitiva che cosa telefoniamo a fare a casa alle persone c'è il fabio che ci dà le risposte ma comunque mi ricordo meno lì che lingua era era finlandese giusto sì ma come fai a ingannare cioè siamo una coppia perfetta io e ij non è possibile io sbaglio le pronunce e lei conosce le lingue cioè capito io so solo buon natale e ciao in finlandese è già qualcosa è comunque il doppio di quello che saprei dire io in finlandese e soprattutto io lo direi sbagliando la la pronuncia la pronuncia vabbè io ma se non c'è la risposta esatta meno lippu secondo me è meno lippu c'è è è un zug in finlandese se non mi ricordo male era una delle domande del quizone ufficiale allora la A è in finlandese la B è in spagnolo la C è in francese la D è in ungherese adesso è inutile che ti riprendi l'ungherese qual'era lì me la scemo chi legge o malirev sì è quello è quello la accendiamo? ma grazie sì 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 la risposta è esatta va a quel paese è glumene in ma sono ok guarda dal 2019 che facciamo il quizone noi non conosciamo le risposte noi sappiamo come carpire le risposte e come ingannare chi deve rispondere diventa noi le sentiamo sì sì la differenza tra il quizotto e il quizone è questa quindi quindi o malirev altro non era che glumave in ungherese ah glumeve non scimo chi legge no glumeve fai te fai te però allora Elena nelle prossime volte potremmo mettere qualcosa del genere tipo scimo chi legge che ne so vecchio riflesso poi fa un anagramma esatto esatto una roba del genere che fa troppo ridere sta cosa le diciamo a spip così te le prepara spip tanto sentirà questa ah ecco ragazzi dovete passare il file prima ancora di mandarlo in onda a spip per favore cioè lui è proprio lui deve ascoltarla subito la puntata non ce la può fare a resistere fino alla pubblicazione io io lo passo veramente mi dai la mia no ma lui se la ascolta per davvero questa è la cosa bella va bene è meglio no noi registriamo a quest'ora più o meno come voi e lui la mattina quando io e Elena all'alba ci svegliamo il primo messaggio che leggiamo è spip che ha detto oh ma bella la puntata di ieri perché lui poi ci fa i trabocchetti a noi a me Elena no ci fa ci scrive le canzoncine dobbiamo cantarle ci fa fare le scenette le scenette prese dai film le robe così allora lui non vede l'ora di ascoltare le maledizioni che gli lanciamo quando dobbiamo dobbiamo fare le cose che scrive lui è giusto è giusto sì è fortissimo spip è anche quello che fa le domande più difficili o sbaglio no assolutamente cioè nel senso è un summa le fa quasi tutte lui quindi tra lui e Ferrini insomma è più cattivo spip mi sa di sì perché Ferrini ha finito di fare domande sui giochi e adesso non sa più che domandare delle altre cose undicesima undicesima domanda senza neanche un aiuto quindi dovete fare uno così a sfregio tutti e quattro allora chiudiamo con Battlestar Galattica vabbè non siamo Cori Konieska io ricordo solo una cosa che Battlestar Galattica abbiamo detto a inizio della puntata è del 2008 il suo autore è un certo Cori Konieska sempre che ho scoperto che si pronuncia in realtà conesca qual è l'ultimo suo titolo ad aver visto la luce in Italia a Star Wars in italiano si cioè localizzato ok ma no sarà i 3000 i 3000 infami lì come l'hanno chiamato quelli di Asmodee aspetta se sentiamo sentiamo è bello a Star Wars orlo esterno b Nemesis C War of the Ring prima edizione D 3000 canaglie ma vedi le canaglie allora Nemesis è di non è di Konieska ok esatto ma è di è di è di è di Fabinski ah Fabinski simpaticissimo Fabinski sapete che da grande lui vuole fare il ballerino no e vi siete persi la puntata in cui lo intervistiamo divertentissimo c'è riuscita no perché si è fatto male al ginocchio e non ha potuto continuare con quella carriera e si è dato ai giochi da tavolo è andato bene forse allora orlo esterno orlo esterno è stato pubblicato recentemente tra l'altro è stata pubblicata recentemente anche la sua espansione e voi però parlate del gioco base giusto? Star Wars orlo esterno allora io ti dico ti aiuto che 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 recentemente nel senso dell'anno scorso è uscita la ristampa e invece le 3000 canagli 3000 infami è nuovissimo è nuovissimo quello è sì è uscito un paio d'anni fa in realtà però in Italia è arrivato poco dopo con Asmodi io tra l'altro me lo sono preso subito sull'amore e la fiducia cieca di Cori Koniezca l'ho giocato con mia figlia mia figlia non è piaciuto e non sono più riuscito a proporlo a nessuno ma perché semplicemente non ho avuto il tempo sono usciti altri giochi se il figlia avesse fatto avesse spammato e avesse detto a tutti mi fa schifo quindi non giocate c'era un influenza sì a suo modo sì a me non sembra malaccio comunque no è carinissimo con le carte trasparenti le metti una sopra l'altra è un family plus perché Koniezca si è dato a quella a quel target lì no lui ha fondato questa nuova casa editrice ha lasciato perdere la fantasy flight dove era il direttore artistico tra l'altro quindi probabilmente aveva semplicemente voglia di osare quello che diceva Elena inizio puntata sull'autore preferito no mi piace questa mi piace questa cosa sì questa libertà espressiva e devo dire che i tre giochi che ha fatto io sono rimasto a tre non so se ne ha fatti altri mi mancano nel caso i tre giochi che ha fatto con la sua nuova casa editrice hanno delle copertine bellissime quindi sicuramente l'artista che gli disegna le copertine l'ha scelto proprio bene allora aspetta la sua giusto per gli altri che ascoltano la puntata la sua casa editrice si chiama Unexpected Games yeah i giochi sono cinque addirittura sì allora Deinitiative è quello che c'è la tizia tipo un'investigatrice privata però col cranio diviso in due e dentro ci sono le varie stanze è bellissima la copertina cioè spaziale proprio no poi c'è 3000 canaie che è il titolo originale 3000 scoundrels con tutti i cowboy che formano un cowboy più grande una roba del genere pure quella molto bella poi c'è Voice in my head quella è geniale sia il gioco che la copertina perché la copertina c'è sto tizio che c'ha tutti i pupazzetti che gli escono da tutti i pizzi e il gioco me lo ricordo vagamente perché poi questo non è uscito in italiano è fortemente tematico e praticamente tu dove ogni parte della cioè questo uomo aveva tante voci in testa e ogni voce cercava di assolverne una altra insomma assolvere un altro problema una roba così sembrava veramente veramente figo nella concessione della però non ho mai letto il regolamento ho solo letto l'ambientazione sì comunque ci sono le carte dove ogni carta è una voce che ti dovrebbe uscire dal cervello esatto e poi perché questi mi hai detto cose che so adesso mi dice cose che non so poi vabbè ha fatto l'espansione o un titolo aggiuntivo di 3000 canaglie che si chiama Double or Nothing una cosa del genere e poi vuol dire che ha venduto per fare un'espansione quindi vedi mia figlia non capisce niente dei giochi da tavolo poi l'altro titolo il quinto titolo in realtà deve ancora uscire ed è The Mandalorian Adventures Adventures che deve uscire l'anno prossimo aspetta che ci guardo quest'anno ah sì nel 2024 quest'anno deve uscire sì e il designer è lui Cory Konietzka e e un altro che non mi da Josh Bigpler che non conosco vabbè questi sono i 5 titoli quello che non è ancora uscito difficilmente sarà già stato pubblicato in italiano le 3000 canaglie me lo ricordo me lo ricordo l'ho comprato da Smodi un anno e mezzo fa circa non riesco a ricordare bene dimentico quando compro i giochi non c'è un anno e mezzo e sicuramente è uscito dopo Orlo Esterno sicuramente quindi voi non state parlando dell'espansione di Orlo Esterno che potrebbe essere uscita dopo le 3000 canaglie potrebbe fammi vedere se ho il numero di Cori Konietzka io faccio una telefonata così usiamo ah no dai only the brave ma a quest'ora lui dovrebbe essere sveglio teoricamente sicuramente sapete che la l'emozione di intervistarlo è stata più forte dell'emozione della prima puntata di Radio Goblin cioè io mi sentivo un bambino un bambino che incontrava Babbo Natale sì sì è stato fortissima come emozione quella puntata io davanti al mio autore preferito così a chiacchierare poi è troppo simpatico bello bello che bei ricordi ma lui è americano giusto? sì 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 e poi mi ricordo ancora quando registrammo ero talmente emozionato no? che Axaroth si mise a leggere i giochi editati da da Cori Konietzka e io mi resi conto nel momento in cui lo diceva che lui non stava leggendo i giochi di Cori Konietzka cioè aveva trovato probabilmente su BGG l'elenco anche dei giochi che lui partecipava tipo sviluppatore ma su quei giochi tutto sì esatto tutto quello che è uscito dalla Fantasy Flight quindi l'ess una marea di giochi che non erano però di Cori Konietzka io non riuscii a interromperlo in nessun modo e alla fine lui in maniera molto elegante disse però in effetti i giochi che avete letto non è che proprio io gli ho fatto Cori non ti preoccupare rieditiamo solo questo pezzo Marco leggerà i giochi giusti tu fai finta che abbiamo detto quelli giusti e abbiamo pacciato come lui ha pacciato Battlestar Galactica lui no però hanno pacciato Battlestar Galactica noi abbiamo pacciato la sua puntata la sua puntata lui ha partecipato sto guardando ora a 96 allo sviluppo di 96 titoli un geniaccio troppo 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 forte quindi Elena secondo me diciamo 3000 e sbagliamo facciamo la nostra figura cioè che poi se facciamo tutto giusto sembriamo quasi quelli perfettini sai quelli proprio infatti ma sì ci sta a sbagliare se ci hanno fatto il trabocchetto con l'esterno sono stati bravi loro concordo cosa accendiamo accendiamo 3000 canaglie e prima ancora che tu ci dica il risultato ti ringraziamo per averci creato questa bellissima puntata ad hoc sei stato simpaticissimo e bravissimo che ci hai dato un sacco di suggerimenti non voluti per le puntate gli aiuti diciamo non ci sono serviti grazie a te perché se la indovinate c'è c'è la domanda extra sì vabbè però quella è tipo lo spareggio dai su niente arriviamo alla risposta e la risposta è esatta bravi grande sì comunque questa era già un po' più difficile perché tra orle esterno e 3000 canaglie in Italia è passato un anno perché 3000 canaglie in Italia è uscito nel 2023 e Star Wars orle esterno l'ultima edizione come vi ho detto prima è uscita nel 2022 2023 sì cioè ci ballava meno di un anno un minimo di dubbio infatti ce l'avevo però insomma so che è uscita l'espansione da poco quindi mi sono fatto un conto così bravi bravissimi siete stati bravissimi sì 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 vi faccio i complimenti e grazie a voi per aver partecipato sì ora devono decidere non lo dovete fare proprio ora in puntata ma più avanti me lo potete anche scrivere la super cazzola da dire in puntata io lo farò e poi vi avviso ah un'ultima cosa vi devo dire quando esce questa puntata aspetta aspetta perché a questo punto gli faccio veramente la domanda la domanda finale ma vai mentre lui ti fa la domanda mentre lui vi fa la domanda io cerco il calendario ecco bravo ma te non ci fa la brutta figura adesso no 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 infatti ci mancherebbe infatti vi faccio delle tre versioni che ho vi faccio quella più facile proprio perché comunque mi sembra che allora ora io vi dirò cinque titoli di giochi famosi proprio molto famosi metteteli in ordine di pubblicazione ma io ti odio ma dai guarda ti sto dicendo veramente dei titoli che anche mia figlia tra un po' mi li mette in ordine va bene dai allora io vi dico ovviamente solo i titoli e poi voi fate tutte le vostre considerazioni che volete sono cinque eh uno Tigri Eufrate bellissimo bravo due Puerto Rico tre altrettanto bello i coloni di Catan quattro Picket to Ride Europa 5 site ah scusa che tu lo pronunci bene scite volevi dire scite esatto scusa 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 scite è un po' sembra pugliese cos'è scite 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 il più nuovo Tigre Eufrate secondo posto aspetta io me ne so Catan Puerto Rico Puerto Rico shite e poi TTR Europa ah Ticket to Ride Europa per Europa ah perché Europa maledetto esatto allora Catan è sicuramente il più vecchio senza nessun dubbio poi al secondo posto direi Tigre Eufrate sì 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 perché è ancora prima del 2000 Tigre Eufrate sì sì assolutamente mentre Puerto Rico è primi del 2000 assolutamente il ventennale sì esatto è stato fatto il ventennale non troppo tempo fa TTR Europa e SAIS bravo questo punto perfetto sì io vi ripeto quello che avete appena detto è Catan Tigre Eufrate Puerto Rico Ticket to Ride Europa SAIT io sono assolutamente certo del primo dell'ultimo sul secondo e il terzo sì sì so probabilmente i due più vicini Ticket to Ride sta lì in mezzo per forza sì perché non è uscito prima di Puerto Rico assolutamente no e non è uscito dopo SAIT no non è possibile quello sta lì sta lì in mezzo sì 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 mi fido di Elena assolutamente bravi bravi hai visto e qual era la domanda difficile scusate no allora c'era una versione difficile che era ce ne avevo altri cinque che però erano molto più ravvicinati ecco maledetto eh infatti ho fatto quella facile quella era una domanda da SPIP quella con le date ravvicinate no in una avevo fatto in quella difficile però c'era un aiuto perché erano cinque titoli ma due erano molto simili perché Steam ed Age of Steam wow e quindi già uno se sa un minimo che Age of Steam è il capostipite allora per forza lo mette prima e e basta vabbè comunque bravi bravi non mi aspettavo niente di diverso ce la capiamo? assolutamente sì sembra che siamo dei ciltroni e invece invece le facciamo preparatissimi comunque avremmo avuto tutti e quattro gli aiuti esatto avremmo cercato su internet ed era fatta pensa che io ho detto sì ne metto quattro così li aiuto di più invece che tre quattro è meglio invece neanche uno sono bastato io siete stati troppo buoni infatti è il quizotto dai è il quizotto questo nome è cuccioso e no grazie a voi e vabbè salutiamo tutti io vi ringrazio e niente ci rivediamo e ci riascoltiamo in nuove e utilissime puntate future grazie e ti invito ancora ciao 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 giochi sul nostro podcast il podcast ludico avete ascoltato giochi sul nostro podcast per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochi sul nostro tavolo.it se volete contattarci fatelo attraverso telegram o via email trovate tutti i link in descrizione attraverso telegram